Presidente, dall'approvazione del rendiconto in provincia c'è un importante avanzo? Sì, abbiamo approvato ieri il rendiconto in provincia, un altro strumento importante per il lavoro dell'ente e abbiamo prodotto un avanzo di circa 900 mila euro. Questo avanzo andrà direttamente per gli investimenti sulle strade, per fare manutenzioni e troveranno spazio 16 interventi su tutto il territorio provinciale. Il criterio è dove c'è bisogno, dove ci sono strade disconnesse, strade infrane e abbiamo 3-4 interventi da fare con urgenza che interessano alcuni territori della Vallata del Vomano e della Vallata del Tordino, ci sono interventi anche nella Vibrata. Sulla Valfino stiamo intervenendo, perciò sono interventi che andranno sempre sul territorio. La cosa bella è che oltre a servire meglio il nostro territorio facciamo PIL sulla nostra provincia perché questi interventi generano sempre economia che in questo momento c'è tanto bisogno per le nostre imprese. Per quanto riguarda i tempi, questo importo è entro quando sarà investito e poi realizzato? Sì, noi abbiamo subito fatto la delibera, adesso gli uffici fanno le perizie, fanno le gare per importi superiori alle soglie di legge e lì affideremo i lavori. Spero già a metà a fine gennaio di affidare i primi lavori. Quindi per la primavera possiamo avere strade ristrutturate? Sì, alcuni interventi dopo la primavera, alcuni interventi devono essere fatti prima perché rischiamo che con i mal tempi e con le strade possano crollare. Perciò gli interventi saranno diretti in urgenza per tamponare il fatto che possano crollare.